Operazione giocattoli sicuri è quella lanciata dalla polizia locale di Cremona che negli ultimi quattro giorni ha passato al settaccio i negozi di Cremona per verificare la proprietà con la normativa dei giocattoli messi in commercio. Una decisione è quella del comando di Piazza Libertà dovuta soprattutto all'imminenza delle festività. Prima Santa Lucia, la festa per eccellenza dei bambini, quindi Natale, Capodanno e la Befana. Un periodo piuttosto intenso dove domande offerte dei giocattoli superano quelli di altri momenti dell'anno e durante il quale quindi occorre stare più attenti. Le verifiche hanno dato i loro frutti. Il primo bilancio parla di una trentina di confezioni sequestrate perché non rispondenti ai requisiti di sicurezza e di qualche sanzione amministrativa. I controlli proseguiranno perché sotto l'albero finiscano solo giochi sicuri.